Ti stavo dicendo, io praticamente ogni sei mesi ho il discorso che poi la posso sospendere quindi praticamente ogni quattro... se faccio per esempio quattro mesi e poi mi rimangono i due io la posso sospendere e pago 29 euro e poi posso riprenderli dopo però quando la sospendo praticamente la devo tenere ferma per due mesi capito? quindi sennò non si sposta cosa? il periodo capito? perchè sennò poi la devo riprendere e perdere soldi quindi se per caso tu la sospendi e poi la posso spostare capito? si è semplice è una cosa buona ok